Io sono allibito, perché tu non sai come stai andando, non sai come sta andando letteralmente la tua azienda. Cominciate a misurare la performance della vostra azienda, performance gestionali. Ricordatevi, nella vostra azienda ci sono tre tipologie di numeri, tre. I numeri civilistici, che sono quelli che riguardano il bilancio, i numeri fiscali, ma i numeri più importanti sono i numeri gestionali. I numeri gestionali sono il cuore di tutto. E voi sapete la percentuale che non ha il controllo di gestione? L'80%.